Un gruppo come Sirap con determinate professionalità si cresce anche molto velocemente ed è importante anche il momento in cui si entra in un contesto di questo tipo. Noi crediamo che questo sia un momento molto interessante e stimolante proprio perché, faccio un piccolo esempio, negli ultimi mesi all'inizio di quest'anno sono entrati nella nostra società quattro società posizionate in quattro paesi diversi. Quindi abbiamo allargato moltissimo la nostra presenza internazionale. Questo significa un mix di culture, significa trovare anche il modo di integrare persone diverse, culture diverse, modi di lavorare e processi diversi. È molto complesso, però è anche molto stimolante. Quindi persone che entrano oggi nel nostro contesto trovano una grande opportunità per sviluppare la propria professionalità. Grazie a tutti!